Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing Dopo tanto tempo sono ritornato con l'unboxing perché tra pochi giorni avrò il campionato italiano kayak Quindi ho dovuto prendere un paio di cose per essere pronto Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti 150 like per questo video E mi raccomando date un'occhiata anche qua sotto in descrizione che ho linkato un paio di prodotti interessanti Condividetelo E iscrivetevi qua sotto nei commenti cosa vorreste vedere nei prossimi unboxing che magari ve lo porto Dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla Allora Qua dentro c'è un po' di roba Qua abbiamo una canna che la guardiamo dopo Allora prima cosa Ho preso un enduro bag Dopo dentro ci sarà tutto il resto Da mettere principalmente sul kayak, sul retro sedile In modo da avere le cose belle salde all'asciutto Ci posso mettere le gomme, le scatole in genere le tengo dietro Però ci posso mettere gomme, accessori, quello che mi serve più velocemente Poi dipende dalla situazione Tipo in mare mi terrò piombi, accessori, ami, terminali eccetera eccetera Questa è la taglia M Mi arriverà anche la L Ed è comoda anche per pescare da riva Magari anche chi fa oltre out aria Roba del genere Per tenere tutti gli spawn organizzati O anche per colpe feeder Allora Andiamo ad aprirla Che vabbè È una borsa che tra l'altro ha questo bellissimo sistema di maniglie A sgancio E è comodissima perché è maniglia ergonomica Quindi è fatta apposta per la mano In più c'ha queste due maniglie Che probabilmente le utilizzerò per fissarle al carico il più possibile Quindi Andiamo ad aprire Vediamo cosa ho preso Per questo anno Che ho voluto fare un pochino più sul serio Perché si punta alti Allora Prima Cosa Due bobine di viral Via Abbiamo qua lo 0,20 Che andrò a montare sulla canna a slow pitch 150 metri In più abbiamo lo 0,10 Da montare sulla canna Che dopo vedremo Poi Cosa abbiamo Abbiamo lui Ninchiku Il Chirco Chirco Che ho voluto prendere Perché Proverò anche varie cose Se avrò la possibilità Dato che ci sono delle regole un po' particolari Che vi spiegherò nei video Sono 150 grammi E' un inciku Che devo bene imparare ad utilizzare Due ametti Belli incazzati Vediamo Ok E perlina E un bel 150 grammi Devo ancora provarlo Vorrei provarlo anche Su sugarelli Comunque pesci più piccoli Quindi vedremo come andrà Tra l'altro Queste strisce qua Ovviamente sono fluo Poi Andiamo avanti Sempre con il metallo Bella scatolozza Abbiamo Loro Questi sono i K-Tai 100 grammi Colorazione rosa Ne ho le in 5 Aspetta me ne sono lasciato giù Eccoli Sono tutti uguali Tra l'altro Qua possiamo già vedere Come va fatta la montatura Ecco qua Andiamo ad evitare il riflesso Quindi ci mettiamo Il filo di base Che Uno stopper Una perlina Il piombo Con Poi uno stopperino finale E leghiamo Il terminale E gli ami E qua in dotazione C'è già tutto Sono pronti E Questo mi hanno detto Che Ci posso fare Varie cose Vedete qua C'è il terminalino Già con gli ametti pronti Questo è anche per cercare Pesci un po' più piccoli Anche con Mettendo sugli ami Dei pezzi di Esca vera Quindi Sarà interessante Da provare Ed è Molto semplice Da Da fare Quindi Non vedo l'ora di provarlo In verità Anche Qua in alto Adriatico Potrebbe Essere la svolta Per la ricerca Di molte specie Magari Metti l'orata Il giugarello Sono quasi sicuro Però magari Sapete Ho fatto l'orata Slow pitch Perché non posso Farlo con questa E io ho fatto Una cagata Andiamo avanti Ho preso un po' Di sabichi Di varie dimensioni Allora Qua sono due Vediamo Eccoli qua Sabichi 1 Sabichi 2 Sabichi 3 Sabichi 4 E preso anche doppi Per sicurezza Poi Sabichi 5 Ok Poi Andiamo avanti Spediti Assist hook Per i giggozzi In modo da trasformarli Da così A così Andiamo avanti Ho preso Due bei paccozzi Di TB 6000 E 1 Taglia 4x5 Per fare le montature A volentino Queste in pratica Sono ottime Perché Togliono tutte Va montata In questa maniera Ho visto C'è un video Comunque sul canale Tubertini E quality Di Marco Volpi Se volete andare a vedere L'ho messa In questa maniera Qui Con la seconda Con la girellina Laterale In alto In modo che vada Abbattuta E Qua sopra ci va La lenza del mulinello Qua sotto ci va Quella col piombo O con un'altra girellina E qua ci va L'amo In modo da Togliere tutte le torsioni Sia verticalmente Che orizzontalmente Che Era il mio più grosso problema Fino ad ora Flotterini Per provare a tenere Anche Il bracciolo Un pochino più alto Se è il caso In modo da Non andare in mezzo Alle rocce Come l'anno scorso E Quindi Sì un paio di montature Me le farò anche Con il flotter In modo anche da Tenerlo un pochino più sospeso In modo da sfruttare La corrente E i micromovimenti Con la canna In modo da far fluttuare Un po' meglio l'esca Due piombozzi Da 150 grammi Per stare leggeri E qua Già si capisce un po' Poi Amozzi A gambo medio E a gambo lungo Non troppo grandi Perché Si va molto Con la quantità di pesce Abbiamo un massimo Di 25 pesci Per specie Però le specie piccole Sono quelle che fanno La differenza Penultimo Abbiamo il mulinello Ho voluto provare Nuovo uscito Diciamo l'anno scorso Lo spring Che è un mulinello Economico Sta su Circa 50 euro Taglia 3000 Per stare Su una combo Leggera In modo da non sforzare Troppo il braccio Che comunque Posso utilizzare Anche in altri ambiti Molto semplice Carino Vediamo Avvitarlo Che fa il suo lavoro Eccolo qui Vediamo un po' Il mulinello Il mulinello Che deve fare il suo lavoro Bobina dip Ovviamente Manopulina in gomma Antiscivolo Bella frizioncina E Si Bello fluido E Nelle taglie più piccole È Beh anche questa Volendo Va bene anche per lo spinning Quindi è arrivata L'ora E su questo Ci andremo a montare Il 10 Di viral Per avere la massima sensibilità Possibile Avere meno allungamento Possibile E Se c'è pesce un pochino Più di taglia Poterlo forzare un pochettino Infine quindi Andiamo a vedere La canna La canna Che farà molta differenza In kayak Quest'anno E se riuscirò Ad utilizzarla Pure da barca Eccola qua È Una Talaxa 6800X 2 metri 70 per un massimo Di 300 grammi Quindi posso andare A sforzare Anche 250 grammi Non credo Sia necessario Però Non si sa mai Allora Ecco qui la canna L'ho scelta Sia per Il manico Bello Gripposo E per il tappo Da combattimento Perché si può Mettere sulla pancia E Alzare In più Ha un manico Corto Non cortissimo Però da kayak Meglio che niente Va Mi va Circa 10-15 cm Oltre il braccio Che da kayak Non è da sottovalutare Perché un manico Troppo lungo Va ad affaticare E rovinare L'azione di pesca Un bel fusto In modo da poter Comunque forzare Anche magari tipo Prendi due orate Di bella taglia Devi pomparle Per dire Magari due denticiotti O quello che è Ho bisogno di una canna Che avesse una bella Schiena per portare Anche perché Dove andrò Nei prossimi giorni È roccia E noi non vogliamo Che il pesce Vada nella roccia Questa è il secondo pezzo Eccolo qua E adesso È un po' difficile Far vivere una canna 2.70 Eccola qua In più Ha due Tip Una medium E una light Dovrebbero essere Se non ricordo male L e E Vediamo 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 M Sì Questa è la medium Molto più strong Si sente la differenza Adesso bisognerà vedere Se preferire La sensibilità Questa Oppure Magari un pochino Più di forza Anche in ferrata Ce la da decidere Penso La sensibilità Però Non si sa mai Dipende dalle condizioni Ok Voglio adesso Vederla però Col mulinello Su Sì Normalmente Su queste canne Si utilizzano mulinelli Più grandi Però Sul kayak Non va molto d'accordo Perché avere un mulinello Troppo grande Sei seduto Sei così Avere un mulinello Con una leva Troppo grande Dà un po' fastidio Io ho preferito La leggerezza E Un mulinello Compatto E Tanto non devo fare Sforzi Troppo gravosi In più posso utilizzarlo Anche per altre pesche E Sì Ho preferito La praticità E La leggerezza È magari Un mulinello Più grande Con Una monopola Più grande Ecco Dunque Per questo video Era tutto Quindi Iscrivetevi qua sotto Nei commenti Cosa vorreste vedere Negli altri video Lasciate like Condividetevi E iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Dunque Per questo video è tutto Ciao a tutti Per questo video è un po' Grazie.